... ... ... ... ... ... ... ... Ma cosa avrai da ridere così tanto? ... Che cosa? Il primo d'aprile? Ah, il primo d'aprile è il giorno dell'anno preferito Dario! Hai la stringa slanciata! Pesce d'aprile! Vedi che non hai neanche le scarpe, tu! Oh, basta! Mi sono stancato! Ti faccio vedere io che cos'è uno scherzo e come si deve! IAAAAAAA! Oh, che sede! Pesce d'aprile!